Adesso prepariamo un attimo il prossimo relatore che è Luigi Porto che ci parla dello stato della rete Linux nel 2018 La rete Linux, per farla, per accennare brevissimo a quello che dirà lui Linux è una rete wireless comunitaria praticamente è l'applicazione dei principi di libertà che stiamo cerebrando in una giornata del genere relativi al software applicati però ad una rete informatica è una rete informatica sviluppata non dai giganti di internet e poi che ci arriva nelle nostre case ma il contrario è una rete che parte da noi, la fanno persone normali collegandosi in origine con collegamenti wireless con delle antenne di tipo domestico dal prezzo accessibile che vanno poi a comporre una rete mesh una rete mesh è una rete che non ha una sola strada per arrivare in un determinato punto ma è un'interconnessione di più collegamenti ridondanti tra di loro che visti dall'alto vanno a formare una ragnatela Linux è una rete mesh sviluppata da una comunità che è appunto la community Linux a Cosenza Linux è presente dal 2012 ed ha all'incirca una ventina di nodi nel momento topico sparsi per tutta Cosenza e tutta Rende quindi a livello di copertura copriamo tutta l'area di Cosenza e di Rende vuoi? sì Grazie. 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 La rete, non tanto su Cosenza, ma in Italia. Allora, cos'è innanzitutto una rete wireless, una community network? Quello che dobbiamo ben tenere in mente, dobbiamo vedere la rete, ora noi la immaginiamo come un singolo cavo che entra a computer, noi dobbiamo immaginare tutto questo in etere, cioè praticamente collegarle unicamente senza chi. Ora, come un momentino vediamo dalle slide, la Wireless Committee Network rispetto a un provider parte tutto a basso, sono reti mantenute da persone comuni, da noi, da appassionati. Non c'è un proprietario dell'infrastruttura, ogni nodo, questa è una rete che si va a creare nodo a nodo, una persona a un nodo, non c'è un singolo proprietario dell'infrastruttura, non c'è un operatore dietro, quindi diciamo che il funzionamento della rete è a discrezione della manutenzione di come il proprietario del nodo cura il proprio nodo. Quindi, come diceva Stefano, la caratteristica principale di Linux è la mesh, la rete a maglia. Qua abbiamo una piccola dimostrazione di come funziona una rete a maglia. Quindi cosa succede? Succede che se abbiamo, se questo nostro nodo, se noi siamo collegati a più punti, ad altri utenti, ad altri nodi, con determinati protocolli o comunque con determinati automatismi del software di gestione, il nostro router, perché ci sarà un router dietro a tutto questo, capirà che qualcosa non va sul link predisposto al collegamento e può rigirare la propria connettività verso un altro nodo che ha uno stato di salute insomma funzionante. Questo è un piccolo esempio con degli access point a doppia antenna. Quindi un'antenna che fa da ricevitore e un'antenna che fa da access point, da accesso, da punto di accesso per appunto il nodo successivo o comunque per la maglia. Però il concetto di mesh, che noi lo vediamo applicato più che altro a un ambito appunto tecnico, dobbiamo prima cosa di tutto su Linux interfacciarlo con le persone. Perché alla base del funzionamento reale della rete c'è qualcos'altro. Prima devono funzionare i rapporti con le persone. Prima si crea la community, qui prima si crea un punto di studio tra le persone, quindi un target principale tra le persone. Perché una persona è su Linux? Ora appunto, come io qua brevemente ho spiegato, una WCN, una wireless community network, è in primis interazione tra le persone interessate. Quindi ci deve essere qualcosa che spinge queste persone perché entro in Linux. Poi, giustamente, ognuno di noi può fare un utilizzo che solo l'immaginazione ci può limitare al riguardo. Perché sono dei laboratori, appunto. Linux in sé è un laboratorio sperimentale dove chiunque trova un piccolo spunto per un suo progetto, una sua idea, lo può praticare senza tener conto di limitazioni, senza tener conto... Anzi, anzi, può fare gruppo con altre persone semplicemente dando un'idea, senza alcun problema da tener conto ai provider. Dice che un provider ti limita nelle tue scelte, ti limita un momentino in quello che vorresti fare sulla sulla rete proprietaria del provider. Quindi il problema è più... non tanto sulle persone. Il provider cerca un momentino di inculcare una certa idea di internet. Noi viviamo internet unicamente da consumatori. Il problema è crearla, un certo collegamento al link tra di noi. E qui ho fatto due piccole... due piccole... vorrei far notare una cosa. Linux è formato da due grandi layer. Quindi, persone e rete. Qui ho fatto due punti. Decentralizzazione e distribuzione del sapere tra gli utenti ha lo stesso passo con decentralizzazione e distribuzione dei servizi tra gli utenti. Questo perché? Perché, praticamente, noi dobbiamo tener conto che... Non metto soltanto un po'. Pensai che ho saltito una slide. Vediamo un po'. Sì, ho saltito una slide. Ok. No. Cosa? Non fa niente. Non fa niente. Ok. E allora dobbiamo soltanto un momentino. Cosa è Linux in sé? Linux, appunto, come abbiamo detto, è una wireless community network. Nel mondo esistono già altre realtà molto più vecchie di Linux. Pensiamo in Spagna, pensiamo in Slovenia, pensiamo in Germania. In Linux in sé abbiamo intorno ai 350 nodi attivi in Italia, mentre in Germania si parla di migliaia di nodi. In Slovenia anche, per quanto ne sappiamo, insomma, siamo intorno ai 259. Di più anche. Anche di più, vero? Quello che dobbiamo ben tenere in mente è che chiunque può fare parte di Linux e può applicare qualsiasi suo caso di studio, qualsiasi sua applicazione pratica, la può applicare dentro Linux con, appunto, la certezza di avere altre persone nella rete che possono collaborare o comunque avere una base di sviluppo con, insomma, l'interessato. Però vorrei far vedere, questa è la distribuzione dei nodi attualmente in Italia, dei nodi più i potenziali interessati al progetto Linux. Siamo intorno al 1000 attivi, sono appunto 300-350, però sono persone che aspettano, aspettano un collegamento perché nella loro zona non è presente, appunto, qualcuno che ha già iniziato il progetto. Quindi quello che, il primo step per queste piccole, tante piccole comunità, è creare, anche da soli, creare un primo punto di accesso che poi è quasi automatico che ci sarà qualcuno vicino che a sua volta si collegherà a questo access point e così via anche per qualcun altro. Questa è la realtà di Cosenza attualmente. Non so se... ok, si vede bene. Le linee gialle, verdi gialle, sono i punti, sono i collegamenti esistenti tra noi nodi. Quindi, in qualche modo, noi cerchiamo innanzitutto di ridondare, di collegarci non solo a una persona, ma a collegarci su più nodi. Questo perché? Perché per qualsiasi guasto o problema tecnico un nodo cade, noi possiamo... automaticamente il nostro router capirà che quel nodo è andato giù senza che noi ce ne accorgiamo, redilige il traffico direttamente sull'altro nodo funzionante. Questa, appunto, è l'architettura Mesh, quella che abbiamo visto prima in quel disegno, in quella GIF. la vediamo applicata anche, appunto, su... Naturalmente, ad esempio, questo nodo terminante, naturalmente, non si collega più a nessuno giù. Però, lui, comunque, fa access point per qualcun altro che in un futuro si collegherà, sempre scendendo verso sud. Lì abbiamo Borgo Partenone, mi pare che aveva Vincenzo, qui c'è giù? Mi pare che abbiamo Rovito, e poi abbiamo la parte sud di Cosenza, Rogliano. E lì ancora è una situazione dormiente, però vedendo la mappa qualcuno può, appunto, comprendere. Qui abbiamo lo zoom su Cosenza, questo è il mio nodo, ci colleghiamo con queste antenne qui. Noi creiamo, appunto, più accessi possibili per avere la ridondanza automatico. Questo è il nodo di Stefano, Stefanaus. Questo è il nodo di verde binario. Questo è il nodo di verde binario. E questo è il mio nodo. Con cui io sono, infatti, molto basso come palazzo. Sono basso come palazzo. E punto direttamente a creare un accesso omnidirezionale con una scheda particolare, una scheda che si chiama una Alix. Con doppia radio a 2,4-5 GHz. Però uso, appunto, la padella, la Ubiquiti, come dorsale di collegamento su, vediamo se possiamo tornare indietro, su un mio sping che è un po' il distributore attualmente su Cosenza, assieme all'EcoCasa, del segnale Wi-Fi. Ecco qua, questo qui è il router, il gran router. Quindi, mentre le antenne non fanno altro che trasporto pacchetti, il router comprende e, insieme agli altri router, si chiamano tabelle di rotte. Praticamente, lui, il router, comprende chi è attivo e chi non è attivo e, a seconda di chi è attivo, lui decide dove far passare il tuo segnale, insomma, il tuo transito di pacchetti. E, automaticamente, in caso di caduta, subito le dirigite acqua in modo automatico. Quindi questa è la parte intelligente dell'infrastruttura ed è distribuita tra i vari nodi. Noi, per comodità ormai, usiamo OpenVRT. Però, nessuno ci vieta di usare qualsiasi device, anche un computer, anche un vecchissimo computer, come smistatore, come parte intelligente nella rete. Appunto, noi usiamo un protocollo di rete, un protocollo di routing dinamico, proprio perché è l'unico che può capire chi si è rotto e chi invece è in vita nella rete. Cosa c'è in Linux? Allora, Linux, in realtà, come ho detto prima, è un contenitore, infrastruttura. Noi possiamo riempirlo come vogliamo, tutto quello che vogliamo. Un primo esempio, per quello che conosciamo, appunto, noi, è il VoIP, il file sharing, il chat. Io mi occupo anche di sensoristica ambientale, quindi immaginiamo il caso in cui noi abbiamo una rete di sensori su cosenza, una rete di 60 sensori, cade il nodo in cui un tot sensori sono agganciati. Che succede? Perdiamo tutti i dati della sensoristica. Invece noi dobbiamo fare in modo che questi dati, in qualche modo, devono raggiungere, appunto, un collettore, un server. Se i sensori sanno che c'è qualcun altro in vita, allora cosa fanno? Se c'è un nodo, un utile nodo con lo stesso sito, ad esempio, che è in vita, allora non è un problema. La tolleranza al fallimento del nodo è praticamente automatica. È automatica perché viene tutto gestito agli automatismi, di cui ho parlato prima, che è il protocollo di routing o LSR. Ora, il discorso è un po' storico perché dobbiamo comprendere anche Ninux perché è nata. Ora, Stefano infatti ha detto, Ninux a Cosenza c'è dal 2012, però già da molti anni prima, su Roma è nata la prima realtà Ninux. Là c'era un'altra esigenza. Un'esigenza già nasceva da luoghi in cui mancava completamente la connettività. Mancava, oltre alla connettività, anche un semplice trasferimento file, mancava anche la linea telefonica. Quindi, il discorso è stato più a livello infrastrutturale, creiamo la nostra rete. Con cosa? Con hardware a basso costo. Perché il 2000-2001-2002 è stato il momento in cui le apparecchiature wifi, da che costavano tanti soldini, insomma un protocollo BGA, all'improvviso hanno avuto un crollo drastico economico, insomma si trovavano router già a 300-200 mila lire, insomma. Quindi già era fattibile avere un'infrastruttura a basso prezzo con determinati firmware poi da inserire in questi router e creare appunto rete con pochissimi soldi. Infatti, il primo ostacolo appunto era la non connettività, oppure la 56K. Quindi era difficile avere già una prima riviera di trasporto. Appena qualcuno montava già una coppia di queste antenne, vedere i 2 megabit era qualcosa di spettacolare. Quindi, con tutti i benefici del caso, poi naturalmente noi siamo stati in ADSL fino a qualche anno fa, quindi avere un upload a già 2 mega era qualcosa di incomprensibile. Poi il discorso è diverso perché non abbiamo più bisogno di chissà che infrastruttura di connettività, perché comunque in qualche modo i grandi centri stanno conoscendo la band dell'FTPH, della VDSL, insomma. Abbiamo a che fare con provider che in qualche modo cercano di arrivare dove prima non si arrivava nelle zone rurali, insomma. C'è un altro discorso. Il provider fa sempre un certo gioco sulla densità della zona dove deve arrivare a livello di connettività. Se quella è una zona che non rende a livello economico il provider, anche se quella zona conosce una piccola realtà industriale, non si impegnerà mai a spendere decine di migliaia di euro per portare connettività avanzata in quel posto. Ad esempio io ho dei clienti che sono a Pienolago. Pienolago, qua vicino Cosenza, vicino Rogliano, hanno un'infrastruttura di rete che va dai 2 ai 4 megabit di banda. Però tramite appunto accesso Linux, naturalmente con i dovuti accordi e quant'altro, si potrebbe fornire un accesso anche a 30-40 megabit, 50 megabit. Insomma il problema non è tanto più di struttura ma lì è solamente di utilizzo. E infatti qui ho specificato una piccola cosa. Perché spendere decine di migliaia di euro per capare un armadio di WDSL per avere un ritorno su lunghissimo periodo? Perché appunto se noi abbiamo quei 3-4 edifici, naturalmente nessuno si impegnerà ad arrivare lì con un progetto privato. Però dobbiamo fare una piccola distinzione qui. Noi forse stiamo confondendo, o comunque finora come anche forse l'ho presentata forse male, insomma, Linux e Internet no. Perché non facciamo confusione, Linux non è Internet, è infrastruttura. Come il provider ha la propria infrastruttura, anche Linux ha la propria infrastruttura. Quindi quello che succede poi dentro Linux, la connettività tra uno o più utenti a Internet usando un utente come bocchettone d'uscita, come gateway, non è un problema di Linux. L'importante per Linux è l'espansione della rete. Quindi se tu un nodo impegni a montare un antenna, un access point per favorire l'espansione della rete, non è un problema di quello che appunto, non è un problema del contenuto della rete. Giustamente, sempre rimanendo in atto legale, non è tutto ciò che è il buon senso della rete, ma a Linux interessa soltanto una cosa, l'espansione. Ora il discorso è che una cosa appunto è lavorare o comunque far crescere Linux con l'intento del gateway, con l'intento di avere Internet. Questa espansione c'è stata soprattutto a Roma, perché a Roma hanno conosciuto il digital gateway in una certa maniera, ma non è il nostro target appunto l'espansione soltanto per Internet. Sono due cose che vivono parallelamente. Qui a specifica un'altra cosa, Linux non è un servizio da offrire, ma siamo noi al servizio della rete, le persone per le persone. Cioè noi non avremo mai a che fare con un customer support, con un call center, noi viviamo delle nostre esperienze e per ogni persona, per ogni nodo che entra in Linux, noi diamo la nostra esperienza, li portiamo nella costruzione dei nodi, cerchiamo di far capire come essere autonomi nella risoluzione dei problemi. È un processo lungo, complicato, ma comunque gratificante, perché poi le persone nel loro piccolo poi fanno squadra per qualsiasi problema poi si va a creare nella rete. Soprattutto nel momento in cui un nodo deve fare il cosiddetto troubleshooting, cioè praticamente non mi funziona il router, non mi funziona l'antenna. Naturalmente ci saremo sempre un gruppo di persone che già sono in Linux che daranno una mano al riguardo. Poi quella persona imparerà pian piano a comprendere piccoli problemi, devono essere piccole cose e da lì anche lui sarà capace di fare troubleshooting insieme a un'altra persona che entrerà nella rete e ban mano questo è il concetto di distribuzione della conoscenza. Questa è la cosa fondamentale che lega Linux in un ambito di open. Ora il discorso lo dobbiamo anche far comprendere una cosa. Qui ho specificato che il provider non è una comunità attiva, quindi il discorso è che un provider mai dirà a una persona vai da qualcuno ad aggiustare l'internet di qualcuno e il provider che si fa sempre capo dei propri problemi è con tutte le burocrazie del caso. Noi invece vorremmo far capire una cosa che dobbiamo scostarci dall'idea del provider, dall'idea del tutto pronto. Noi dovremmo costruire da noi una rete che per renderla affidabile, per renderla funzionale, per renderla piena di contenuti dobbiamo collaborare da noi. Quindi il discorso appunto del guest, della persona che si affida a qualcuno che risolve problemi, dobbiamo eliminarlo quasi questo preconcetto. Dobbiamo comprendere più noi a collaborare, a creare, a domandare, a cercare di capire come risolvere questo problema collaborando e facendoci anche noi arte di quello che possiamo riuscire a risolvere sul nostro nodo. Ora mi sa che sono arrivato a... Ma la parte di Cosenza, la rete di Cosenza, è collegata con le personalità? Ecco, questa è un'altra domanda che mi interessa perché in realtà no. In realtà i collegamenti tra isole. Ninux si forma di isole. Quindi giustamente dopo... No, no. Però nulla ci vieta di passare da un internet di qualcuno dei nodi per arrivare all'altro punto di Roma, ad esempio. Questo non ce lo vieta nessuno. Quindi... Esatto. Però il discorso è... Pian piano, andando verso sub, andando verso nord, a livello di connettività wifi, nodo dopo nodo, potremmo anche tranquillamente arrivare a Roma e non usare più ad esempio i tunnel VPN che noi potremmo usare per raggiungere ad esempio Roma. Quindi è un discorso sempre layer fisico. Quindi nel momento in cui noi abbiamo una rete che pian piano, nodo dopo nodo, va sulla costa ad esempio e arriva fino a Roma, lì noi siamo collegati a Roma. Attualmente l'uso è della VPN. Noi facciamo un punto di collegamento sempre comunque passando da provare. Per ora. Un'altra domanda. Volendo aderire al progetto, a che costo si va incontro? Allora... Router, router... C'è un coso? Com'è? Sì, perché alla fine noi usiamo router T-Link con OpenVRT, montando su questi router un determinato firmware che consente appunto l'installazione di pacchetti tra cui... 30-35 euro un router, un T-Link 1043. L'antenna è la parte che neanche costa più di tanto perché noi abbiamo antenne che poi a seconda di dove devono arrivare, i chilometri che devono macinare, si parte dai 50, 60, 70, 100 euro secondo l'antenna ad esempio. Ad esempio. Volendo raggiungere distanze abbastanza lunghe, ad esempio la grid, la grid tocca anche i 15 chilometri. e la possiamo trovare intorno ai 50-60 euro, 60-60, 70 euro, sì. Poi... Se vuoi... Allora... Ci sono... Ogni antenna ha una sua... Una sua... Giustamente una sua particolare... Ampiezza. Ad esempio la grid è molto direttiva. Quindi... Tra i due o tre gradi molto direttiva per andare lontano. Mentre poi abbiamo le... Nano Station, questi cubetti qui... Sotto... È abbastanza ampia, quindi serve più come punto di accesso. Sono 40-45 gradi di ampiezza access point. Arriva intorno ai 5-6 chilometri lei come segnale. E poi abbiamo un altro tipo di antenne direttive che sono le... Eh! La Nano Station viene intorno ai 90 euro, 90-100 euro. Quindi è già un'antenna con più funzionalità rispetto a una grid. E poi abbiamo le padelle, le Nano Beam che anche loro raggiungono i... 15-16 chilometri. E la caratteristica che differenzia la grid dalla... Dalla Nano Beam è una è MIMO, l'altra è SISO. Cioè una ha un doppio canale di trasmissione, questa invece ha un singolo canale di trasmissione. Se posso intenzionare comunque, spannometricamente, tutti questi nodi che vedi in foto sono nodi veramente che li abbiamo curati in maniera molto molto dedicata. E quindi non sono nodi rappresentativi per il costo. Sono costi decisamente superiori. Per esempio, ti posso dire il mio, il mio sono tranquillamente 400 euro di Album. In genere, per il nodo Linux classico, il costo si aggira tra i 200 e i 250 euro. E prevede, prece tutto da zero ovviamente, se riesci e tutto da zero è nuovo. Se poi riesci a avere occasioni, il costo varia. E' un nodo a costo zero. Questo è un nodo a costo zero, ad esempio. Il nodo centrale è un materiale preso piano piano, usato, occasioni, conoscenze e quindi si riesce ad azzerare il costo. Però il nodo classico Linux prevede un router chiamato router di terra che è compatibile con OpenWareT e il modello base che consigliamo oggi costa 35 euro. Poi serve un'antenna per, diciamo, agganciarsi al resto della rete, chiamiamola Station. I costi approssimativi sono quelli che ti ho detto prima. E poi serve l'access point che serve per espandere la rete. Questo è il nodo Linux che serve base per entrare nella rete. Fin dall'inizio di quando entri nella rete devi già essere strutturati sia per prendere il segnale che per rilanciarlo. Questo è un principio basilare che chiamiamo hearing di don't put this, praticamente. E mettiti eventuale carpenteria che dipende poi dal tuo nodo. Magari hai già il palo montato che è lo stesso che usi per l'antenna TV e quindi non ti serve un palo supplementare e quindi lo toglierà il costo. Però aggiungendo carpenteria varia oscili tra i 200 e i 250 euro. Noi abbiamo appreso sulla pelle una lezione che cercare a tutti i costi di risparmiare su ogni singolo dispositivo anche una ventina di euro comporta tanti problemi prima o poi e più prima che poi. Per farti un esempio schiccio, andava popolarissimo tempo fa un router Linux che si chiama Lotte 41 che lo compri a 15 euro. Questo qui costa 15 euro, compatibilissimo con Open VRT e tutto. Ok, 20 euro in meno del 1043. Però questo qui ha una limitazione adesso che chi ha il nodo Linux fatto così la percepisce perché non può aggiornare il nodo, non può migliorarlo, le prestazioni e la stabilità vanno giù. E' il fatto che questo qui ha solo 4 MB di spazio e 32 MB di memoria RAM. Il 1043 con 20 euro di più ti dà tra gli 8 e i 16 MB di spazio flash. Li puoi considerare pochissimo ma considera che è un sistema embedded dove i pacchetti pesano veramente pochi kilobyte, interi programmi, interi software, interi interfacce web pesano questi pochi kilobyte e ha tra i 64 e i 128 MB di RAM che per un dispositivo router è tantissimo. Il processore è molto migliore, si parla di una frequenza tra 1,5 e 2 volte superiore, a 20 euro di più. Quindi aver risparmiato 20 euro prima ha poi un pochino alzoppato lo sviluppo della rete dopo perché per esempio è nato un nuovo protocollo di routing che si chiama OLSR2 e quando tu vuoi passare in una rete già funzionante da un protocollo di routing ad un altro c'è una fase di intermezzo dove per forza devi farli girare tutti e due contemporaneamente. Invece con questi routerini hai una coperta cortissima, se tiri da una parte immediatamente si scopre dall'altro. E quindi stessa cosa per gli access point, tra la nano station che costa 60 euro, adesso sono aumentati un po' i costi, ma tra una nano station e una rocket se ti va bene c'è una differenza di 60 euro. Ma la rocket ha una flessibilità in termini di antenna, l'antenna si può sostituire mentre nella nano station è integrata. Ha una resistenza alle interferenze per via del corpo metallico esterno molto molto superiore. cosa che poi quando cerchi di fare reti che si estendono su interi nuclei cittadini la paghi. Quindi sempre tornando alla spannometria di prima, 200 euro all'ingresso di puro materiale albero, ovviamente Linux non ha costi, non ha bonamenti eccetera, ma la teglia le proprie del mondo, quello rimane a nodo. Giusto. Comunque io ho conosciuto la rete di Linux, quando tre anni fa, si è fatto l'ultimo, ma non si deve qualcosa. E mi sembra che c'è un modo per sapere se sei raggiunto da questa rete. Mi sembra che io all'epoca ho visto questo nome, ma c'è un modo. Io faccio l'installazione, non so se sono raggiunto meno. Allora, naturalmente... Mi sento il mio compino, perché io l'ho fatto appunto, ma non c'è tutto questo. Ah, ecco, ecco. Ma ne sa che i mappi non c'è la data, dove le cose gli fermo. No, no, poi naturalmente noi dobbiamo capire anche sulla mappa dove siamo. Purtroppo il map server Linux è un sito, è questo sito che racchiude tutti i nodi, distribuisce tutti i nodi su una mappa dove siamo. Purtroppo il map Linux ultimamente ha dei problemi di proprio software, e una funzionalità interessantissima che sarebbe quella di disegnare il raggio di azione dell'antenna non la supporta per poter sapere effettivamente se tu sei coperto o hai un'antenna e provi direttamente. Da un punto di vista invece della mappa, che cosa dovresti fare? Dovresti andare sul map server Linux, vedere che antenna monta quel nodo, è un'informazione che sta nella scheda distributiva del nodo. Saputa l'antenna sai il raggio di copertura, perché il raggio di copertura dipende dalle caratteristiche tecniche. Vedi dalle foto dove è puntata e poi se usi per esempio Google Earth, Google Earth supporta il disegno del raggio di copertura. Se gli dai un angolo lui è in grado di disegnarti il raggio di copertura, però purtroppo non è un lavoro comodo da interfaccia grafica, ma è una cosa che richiede delle deduzioni. Anche un'altra alternativa è il link di Ubiquiti, dove ha già tutte le antenne caricate quelle dell'Ubiquiti, quindi tu metti il punto, metti l'antenna, la punti dove sai che quell'antenna è puntata, lo puoi vedere dalle foto della gallery Linux e ti disegna il raggio di copertura. Puoi anche selezionare la potenza di entrata e uscita in maniera tale che tu hai proprio la distanza coperta dall'antenna. Sarebbe bello avere tutte queste funzionalità direttamente nel software Linux, però al momento ci sono tre progetti MapServer, nessuno dei quali è finito. Vediamo se abbiamo, per esempio questa è la mappa che qualche programino ce l'ha, ma possiamo vederlo lo stesso. Per esempio qual era il nodo interessato? Confino 4, sulla sinistra, uno di questi due, no? No, devi andare verso destra. Si sei vicino con Marco, guarda, 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 guarda. Come si chiama, no? Confino 4, su altra terra, guarda, su, leggermente più in su dei spettatori di prima. Sta arrivando. Ecco. Confino 4. Allora, qua è naturalmente, bisogna vedere... Verso lo stadio. Lo sai? Allora, lo so quello che hai fatto. Anche se appunto, se c'è visibilità ottica, se c'è visibilità ottica, non è un problema. Verso lo stadio no, verso 4 miglia si, però poi si è lontana e quindi direi... Vabbè, ma se abbiamo già visibilità ottica su 4 miglia, questa è commenda. Questa qui com'è? Questo è com'è? E qui non c'è, perché c'è questa cordina scuola. Quindi, dovremmo avere chiuso 4 miglia, ad esempio. Qui si è portato? Qui su 4 miglia... No, il discorso non è lontananza. Il discorso è se c'è un punto di accesso visibile qui, che allo stato attuale, mi sa, non c'è, insomma. Quindi è un discorso che... O si attiva qualcuno in 4 miglia e allora di sponda noi possiamo giocare. Questo è il tuo tempo? Sì. Assolutamente. No, ma il discorso è infatti questo. Il discorso è... Comunque sono registrati, ma non è detto che ci sia... Potenziali, infatti, ci si... No, 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 è detto che c'è un sistema potenziale. Allora, perché... Infatti dove c'è una P è il nodo potenziale, che sono appunto quelle migliaia. Quelli più c'hanno in tensione. Esatto, esatto. E invece poi ci sono i nodi attivi, che sono quella... 300 nodi... Sì, sì, che comunque su Cosenza sono già una ventina, insomma. Sono nell'ordine di 18 anni. Per questo poi il discorso è anche se ho un amico interessato o quant'altro, lei è in zona 4 miglia, perché non puoi involgere anche lui? Quindi il discorso poi da cosa nasce cosa, con qualche amico, con qualcuno... tutti e due può operare. Ho fatto questo punto, però... E' perché non c'è ancora nessuno su 4 miglia. Tieni presente che c'è il circolo vizioso, dove non sei ancora coperto, allora aspetti di essere coperto. Qualcun altro aspetta di essere coperto, nessuno dei due fa il primo passo e c'è questo look, tra virgolette, che uno... Oltre il lato sociale, ovviamente, tieni presente che è successo che... esattamente al centro di Roges, avevamo un nodo, Brodolini, che ha montato le antenne preventivamente e sono state per un anno quasi e mezzo senza nessuno collegato. Però erano già pronte. Allora uno poteva dire, ok, rimando tra un mese e mezzo. Poi però il nodo, una volta agganciato il primo, nel giro di sei mesi, aveva tre o quattro collegamenti, che sono stati possibili solamente perché era già predisposto. Però è vero che c'è questo problema di circolo vizioso. Uno dei progetti di Linux per, diciamo, risolvere questo circolo vizioso è strutturare Linux come una rete overlay. Che cosa significa? Significa che chiunque può entrare in Linux istantaneamente se ha una connessione all'internet. Come funziona? Il nodo viene predisposto, tu lo devi sempre montare, è un requisito per entrare. Tu monti il tuo nodo. Però, e lo predisponi per espandere la rete. Il tuo reward, il tuo premio per aver predisposto il nodo in anticipo è l'ingresso nel resto della rete Linux attraverso una connessione VPN autoconfigurante. Un po' come... In questo modo, tu entri Linux di la... È come se si cresse una mini-isola poco distante. Ma il tuo nodo è già pronto per accogliere nuovi nodi. Praticamente sfruttiamo internet come trampolino di lancio per ampliare Linux. E questo è uno dei progetti su cui la rete Linux sta lavorando. Proprio perché questo che dici tu, ancora non sono coperto quindi non entro, è un problema reale e tangibile che molti ci fanno presentare. Scusa, sulla partenza ci sono due raggi che... Come mai i due nodi finali non sono collegati tra loro? I due nodi finali? Questi nodi qui? Uno e due? Cioè non sono collegati tra di loro? Sì, sono collegati là. Allora, forse lei dice perché se è così breve perché non si collegano tra di loro? Questo è un problema di disabilitrata nodi. Quei due nodi non si vedono. Anche se sono vicini non si vedono tra di loro. Qui c'è un edificio, c'è una serie di edifici in mezzo, c'è l'università. Questo è un nodo di nuca che non vede il nodo arco. Quindi è normale che anche a poche centinaia di metri c'è il problema dell'edificio. Il wifi bisogna essere visibile. Ma il nodo verde senza collegamento? Allora, questo è un nodo spento. C'è la mappa in real time, sa chi è spento e chi è acceso. Il link non c'è, altrimenti se è acceso c'è il link. È rimasto segnato verde, però correttamente, non essendo un nodo collegato, tu non vedi il link. Spento. È una questione puramente amministrativa. La mappa non supporta il passaggio. Significa che il nodo è attivo, cioè è stato installato Linux.ly. Ma in quel momento non è operativo perché non è raggiungibile, non ti trovi nessuna linea. Comunque, vi volevo fare presente e poi passiamo la parola a Pasquale. Questa qui è una rete che i provider wireless che trovate in giro, pubblicità eccetera, è una rete di quel tipo lì, ma fatta meglio. Perché in genere noi nel corso del tempo abbiamo imparato ad apprezzare che per virtù di fretta, di necessità di raggiungere il cliente il prima possibile, non ci prestano cura tecnica particolare. Però è una rete di classe enterprise, possiamo dire, per le tecnologie che usa. Per noi è stato un laboratorio sperimentale fantastico. Cioè, quando abbiamo cominciato a lavorare, del wireless sapevamo solamente mettere la password, selezionare nell'elenco e questo è di quello che sapevamo del wireless. Nel corso del tempo siamo riusciti a creare questo genere di rete qui che è operativa e funzionante. Abbiamo visto di tutto, dal software fino al montaggio del palo a muro. All'analisi di spettro per vedere i canali liberi. Ogni genere di attività. Qualsiasi cosa su queste antenne l'abbiamo conosciuta. Se vi interessa, noi continuiamo a lavorarci su questa rete. Ogni martedì ci vediamo all'Unical al centro ICT e questo è uno dei progetti che svolgiamo. Se vi interessa lavorare praticamente in una di queste reti e anche farne parte, se la condizione logistica ve lo permette, il momento migliore per parlarne estestivamente è i martedì sera in Acclub, che includono anche la riunione Nines, essenzialmente. Poi come dicevi tu, il provider arriva a 5 minuti e ti monta l'antenna. Noi siamo stati i giorni sui nodi per fare appunto un puntamento fine, per rendere il link più performante, tutte queste piccole cose che il provider, insomma. Non cura, non cura. Noi abbiamo, ogni nodo ha un suo particolare studio infatti a riguardo, vedendo quelle foto infatti, il tuo nodo è puntato con un palo messo a palazzo, messo in quel punto preciso perché lì i decibel di guadagno erano maggiori. C'è tante piccole cose che il provider non fa. Ovviamente ci abbiamo messo giorni perché in un'ora arrivi al 90% del lavoro, poi ci avevamo la voglia di arrivare al 10% mancante, però il 90% del lavoro di puntamento su un nodo lo si fa in maniera rapida.